tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di vero e dead oggi siamo in uno spacchettamento di fallout 4 per ps4 e delle stereo wireless headphone cioè delle cuffie con uno schermetto andiamo subito a spacchettare fallout 4 sai mi sa che mi serve un coltello andiamo a prendere un coltello e torniamo ok ragazzi stiamo per per aprire mio cugino ha trovato un coltello quindi saremo una forchetta sempre con la nostra fidata forchetta ricordate sotto scrivete l'hashtag the power la forchetta forchetta la potenza della forchetta ok mi ha aperto fallout 4 abbiamo la uniz qua c'è scritto semplicemente immenso qua vedete semplicemente immenso e capa tutte le cose si può mettere a fuoco telecamera vabbè comunque si può giocare a un giocatore e tutte le cose così molto bello appena finirò questo video andrà giocarci adesso andiamo aprire le nostre fantastiche cuffie che c'è un'altra prima qui lo schermo ok io ancora non l'ho vista mai dal vivo mi sono arrivato proprio adesso qui abbiamo un cavo non so per cosa penso che funzionano anche senza di tutto qui abbiamo un altro cavo che è il caricabatteria si è il caricabatteria e qui abbiamo le nostre cuffie io le ho prese nero e oro e qui abbiamo lo schermetto qui se ci chiamano possiamo rispondere sono della zealot davvero molto belle pure il colore dorato mi andrò subito a provare anche queste qui abbiamo il test non off ah no 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 guardate il hoverboard guardate il hoverboard mi andrò subito a provare spegniamola adesso per questo video è tutto spero vi sia piaciuto se non vi siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi qui da bestgamervir e da mio cugino Andrea è tutto e noi ci vediamo al prossimo video